Come nasce la voglia di arrivare qui all'Orangio Chimera? Salve innanzitutto, sono un amico di Gianluca che abbiamo giocato 4-5 anni fa insieme e mi ha dato questa opportunità di giocare in questa società con progetti ambiziosi e quindi penso che con il lavoro di tutto il gruppo e di tutto lo staff potremmo fare bene. Il Presidente l'ha anche detto, qualche soddisfazione la vuole da voi? Il Presidente, ma sai, io l'ho conosciuto alla Chimera 15 anni fa, penso che qualunque Presidente deve ottenere il massimo della propria squadra. Purtroppo con questa terza categoria anche quest'anno non si sa i gironi, le squadre dove andremo. Tutti in cantiere. Quindi fino all'ultimo sarà un punto interrogativo. Noi ci prepareremo alla grande per iniziare il campionato al meglio e per fare anche una buona coppa. Poi su un difensore come te che viene da una bella esperienza negli ultimi tre anni alla Forza, una bella avventura anche lì è stata. Eh sì, a male in cuore è una società che non esiste più, con Francesco sono molto amico e molto legato. Ci siamo tra virgolette divisi, anche se l'amicizia veramente va avanti alla grande, ci sentiamo tutti i giorni. Francesco poi ha avuto altri progetti. E quindi niente, quest'anno ho sposato questo progetto con Gianluca che come ripeto lo conosco da tanti anni, ci ho giocato insieme, ogni tanto mi faceva anche beccare e marcarlo, era una punta un po' tosta. Allora, bene, quindi adesso bisogna, adesso chiudiamo le vacanze e poi dopo si comincerà a assonare la maglia, dai. Ora stacchiamo un po' per poi ricominciare a mille la nuova stagione che hanno chiaramente tutti delle grosse credenziali, insomma. Bene, grazie e buona volta.